vi faccio passare qua entrate pure questo profumo che sento quello che io metto quando arrivo l'olio d'arancia questo è olio d'arancia perché tranquillizza questo qui l'intung lo metti per la concentrazione così dietro e poi lo passo qua qua si e retro del collo e qua poi il limone e questo cosa serve questo qua serve per regolare l'intestino l'artiglieria pesante se volete vedere tutto vi faccio vedere tutto e questa è una schiera di oli queste sono solo una minima parte c'è questo che serve penso che per le donne possa anche interessare serve per praticamente regolare gli ormoni e a base di che cos'è questo qua dentro c'è la camomilla romana c'è la lavanda e per rafforzare il sistema immunitario che cosa qui a questo è l'armadio l'armadietto degli integratori questo qui lo prendo praticamente due volte al giorno e per l'invecchiamento cellulare sostegno del sistema nervoso quindi comunque tranquillizza sistema immunitario è proprio specifico per il sistema immunitario antiossidante cancro dentro c'è l'incenso c'è l'arancia l'izzea il timo e chiodi di garofano quindi una di antiossidante una di vitamine e sali minerali e una di omega sì volete fare uno sperimento passarvi l'incenso e cosa fa l'incenso in viso è ottimo per le antirughe che cos'è questo faccio provare il questa è una crema allora fai così quindi crema e abbiamo messo l'incenso tre gocce di incenso misceli tutto assieme quindi ora ho creato il mio la mia pozione magica sembra balsamico sì ma poi l'incenso tantissime proprietà è stress antibatterico buon umore depurazione difese immunitarie placche in gola gengivi doloranti questo qua io lo metto in diffusione tu quant'è che non ti ammali diciamo le corna una visita e da quanto a questo sempre bene da quanto prendi questi integratori allora questi integratori li prendo al 2018 quindi sono quasi quattro anni che tu stai sempre bene e sei ringiovanita praticamente questo qua è proprio contro l'ansia lo metto così e poi lo metto sul cuore quanti quanti ne prendi in un giorno tanti e questo lo usi al posto dei farmaci sì quando ho mal di pancia è molto semplice vengo qua nelle mie cose e metto una goccia di menta piperita e ti fa passare il mal di pancia e mi fa passare il mal di pancia c'è un olio apposta per tenere in salute il gatto io metto la lavanda e che effetti benefici ha per il gatto la lavanda nervoso che vuole andare sotto in cortile che io non lascio andare allora questo qua lo metto in diffusione o altrimenti e tu ti accorgi che per il gatto fa la differenza certo gli integratori massimo facciamo una cosa facciamo una tazza di tè si prendiamo integratori qui abbiamo una compressa di omega poi abbiamo una compressa di antiossidanti e poi una compressa di multivitaminico e sali minerali questa è la ricetta per tenere al riparo il sistema immunitario e rinforzarlo assieme agli oli sì due volte al giorno mattino e sera con l'arrivo della pandemia la vendita di integratori alimentari per rinforzare il sistema immunitario si è moltiplicata l'italia è il principale consumatore europeo con una quota del 27 per cento del mercato totale il premio nobel Luc Montagnier è categorico dobbiamo assumere tutti gli antiossidanti che esistono e qual è secondo Montagnier il principe degli integratori papaya fermented papaya extract which I promote for many years I promote the the Jean Paul II and it's a good product to maintain the oxidative enzyme questo è l'integratore alla papaya fermentata da prendere una al giorno ogni mattina e ora il multivitaminico uno degli integratori più diffusi d'Italia quanto la papaya fermentata aiuta a prevenire il covid a prevenirlo direi molto poco quello che si è visto per esempio che alcuni composti della papaya interagiscono contro il virus del del covid 19 anche se l'effetto clinico di tutto questo è ad oggi non è noto l'affermazione che questi che alcuni integratori possano aiutare il sistema immunitario a combattere infezione virale si basano in generale su dati sperimentali cioè dati di laboratorio da questo alla rilevanza clinica cioè al dire a una persona che un certo tipo di utilizzo possa effettivamente rendere meno probabile un'infezione grave il passo è molto lungo e questo oggi questo passo noi non lo possiamo fare per la stragrande maggioranza dei supplementi il nostro sistema immunitario funziona meglio se noi abbiamo tutta una serie di nutrienti al posto giusto per cui una dieta bilanciata generalmente fornisce tutto quello di cui il nostro sistema immunitario ha bisogno per cui se io mangio bene e integro le vitamine i sali minerali le proteine tutto quello che mi serve dall'alimentazione in realtà questo integratore non fa la differenza esattamente così grazie a tutti